Ed ecco i nuovi sondaggi elettorali, siamo di nuovo a una fase dei sondaggi, ormai a settembre i sondaggi aumentano, ecco qua, questo è l'ultimo sondaggio, guardate i dati, appare evidente che il Movimento 5 Stelle e Conte continuano a salire nei sondaggi, il PD arretra un poco, si è fermata l'ascesa dei Fratelli d'Italia che restano però ancora il primo partito, direi di gran lunga, guardate anche questo, allora vedete sicuramente è importante che Conte e 5 Stelle nonostante gli attacchi al Reggio Cittadinanza, gli insulti sul super bonus, le accuse hanno recuperato voti invece che perdere, quindi significa che la gente al governo non crede, non crede che il Reggio Cittadinanza era solo per i fannulloni o poi quelli che non volevano fare niente, non crede che il super bonus è stato una truffa, anzi a domande dirette la maggioranza dei cittadini dice che il super bonus è stato bene e non male, dà ragione a Conte e dà torto al governo, poi questo non è che si traduce che il 51% vota per qualcuno, però il fatto che il martellamento continuo contro Conte, gli attacchi, le accuse, tutti questi attacchi fatti soprattutto dalla destra ma anche il silenzio di una parte del centro-sinistra, la destra insieme a Calenda ovviamente come al sol sul super bonus, tutte queste accuse non hanno portato la gente a non votare, anzi Conte aumenta nei sondaggi e quindi significa che qualcosa sta accadendo e che i cittadini non credono al governo, ecco lo faccio rivedere, cioè se nei sondaggi i 5 Stelle e Conte aumentano nonostante gli attacchi continui, cosa significa? Significa che la gente non crede alle fandonie del governo perché sennò dovrebbero scappare in blocco e nessuno votarli più, o no? Se pensano davvero che il Reggio Cittadinanza è servito solo ad aiutare chi non voleva lavorare, se il super bonus è servito solo ad aiutare quelli che si vogliono aggiustare le case ma non imbroglio, allora la gente non lo voterebbe. Perché lo vota? Perché la verità si conosce e al di là di quelli che possono essere gli errori che ci sono in tutte le le leggi e in tutte le iniziative c'è la pensione di invalidità e ci sono i falsi invaditi, ma non per questo togli la pensione di invalidità. C'è il reddito di cittadinanza e ci sono quelli che truffano sul reddito, certo, ma non per questo togli il reddito ai veri poveri, o no? C'è il super bonus per aggiustare e sistemare le case e c'è chi fa le truffe, ma non togli il super bonus perché c'è qualcuno che truffa. Ci sono i supermercati, ci sono alcuni che rubano attraverso supermercati legati alla camorra, ma per questo noi chiudiamo per legge tutti i supermercati d'Italia. Ma perché bisogna sparare cazzate a ripetizione e pensare che la gente è completamente cretina? Ora, alcuni sono anche cretini, ma per fortuna non è che la maggioranza della gente non capisce niente e si predeve bere delle bugie. Allora, questo è il tema. Adesso c'è chi teme l'invasione dal Marocco, dalla Libia, scapperanno. Ma guardate, innanzitutto l'immigrazione, grazie a questo governo, in un anno è raddoppiata addirittura gli sbacchi. Secondo, oggi è il momento della solidarietà con la gente che sta morendo. Quindi non è che la preoccupazione deve essere che scappano, la preoccupazione deve essere mandiamo aiuti per non farli morire o siamo diventati gente che pensa che è meglio che la gente muoia. Fatemi capire. Se qualcuno la pensa così, si cancelli da questa pagina. Perché a me qualcuno che di fronte a quasi 10.000 tramorte dispersi in Libia, la prima cosa che gli viene in mente è che qualcuno può scappare e non che cosa facciamo per aiutarli, dico che una persona che la pensa così è immorale, non merita di stare in un contesto civile. Chiaro? Deve essere molto chiaro. Perché le persone che sono a rischio vanno aiutate, chiaro? Quando ne abbiamo bisogno chiediamo aiuto o no? In questo paese sapete quante volte ha avuto dei terremoti, abbiamo avuto aiuti anche dall'estero, da tutti i paesi dell'Unione Europea. Allora, oggi c'è un dramma vero che è quello di questa crisi climatica che ha provocato una tragedia in Libia. Anzi, per essere chiaro, il ciclone che rischiava di colpire l'Italia perché ci sono meccanismi climatici si è allontanato ed è andato a sbattere sulla Libia. Paese che è molto più in difficoltà del nostro, ovviamente, perché sono poveri, poveri, molto poveri. Tra l'altro non sono i libici che vengono in Italia, ma la Libia viene attraversata dalle persone più disperate dell'Africa e non si arginano questi fenomeni se non aiutando veramente in quelle zone. Andando lì, io ci sono andato, chiaro? Mentre questa destra chiacchiera, parla e non fa un cazzo, io sono andato personalmente in Mali a fare un'iniziativa in cui abbiamo aiutato le persone, abbiamo dato le pompe per prendere l'acqua, hanno realizzato le risaie e non hanno avuto bisogno di migrare. Perché ma secondo voi veramente qualcuno emigra e gli piace con dei bambini piccolissimi attraversare un deserto, pagare dei delinquenti di scafisti fetenti con il rischio di morire in acqua, poi può arrivare in un paese dove li chiudi dentro dei posti e cerchi di capire chi ha diritto e chi non ha diritto. Ma quale persona, secondo voi, quale madre e quale padre può prendere un bambino di due o tre anni e attraversare il deserto, il mare, se non perché è disperato? Ma veramente andate pure in chiesa, magari qualcuno di voi, e osa dire che questa non è una cosa sulla quale bisogna intervenire con serietà e non solo con le chiacchiere, le bugie e le stupidagge. Vergogna, vergogna due volte a chi va in chiesa, fa finta che fa il cristiano e poi di fronte a una tragedia dove la gente sta morendo, invece di dire che possiamo fare il nostro paese, che deve fare per aiutarli, qual è la prima idea? Che forse emigrano. Guardate che emigrano anche senza le tragedie dell'immediato. È chiaro? Emigrano come facevano gli italiani che emigravano negli Stati Uniti, o no? Che erano poveri e andavano a cercare fortuna e attraversavano l'oceano Atlantico e venivano chiusi in alcuni centri di quarantena dove venivano schedati, visitati perché avevano paura che portavano malattie. Questo è successo anche ai nostri avi. È chiaro? Punto. Giulia capisce che la solidarietà è un dovere, speculare sui disperati e vergognosi ci mancherebbe altro. Allora, innanzitutto questa è la situazione oggi in Libia con il rischio addirittura di 10.000 persone tra morti e dispersi. E i dispersi in molti casi rischiano di essere morti. Poi, diversa è la situazione drammatica che c'è in Marocco, dove sono già 2.800 morti, dove c'è stato un terremoto molto grave e dove il Marocco ha rifiutato l'aiuto di alcuni paesi che lui ritiene che non siano amici del Marocco. E questo è un altro paio di mani. Ma noi abbiamo il dovere, il nostro governo innanzitutto, e noi come cittadini che dobbiamo sollecitarlo e per quello che possiamo fare aiutare, il nostro governo ha il dovere di intervenire e di sostenere. Basta. Allora, adesso torniamo a noi. Quindi abbiamo problemi nazionali, uno di questi è, oggi abbiamo scoperto, e l'ho scoperto addirittura da Repubblica, che non è un giornale che sostiene il super bonus, tanto per essere chiari. Dice che c'è il rischio di 10.000 cantieri che falliscono se il governo non cerca di trovare una fase transitoria. Cioè, i lavori già partiti, i lavori in difficoltà, il governo deve trovare delle soluzioni. Poi può dire, per i lavori futuri non ci sarà più il 110, si ritorna al 60%, che era quello dell'eco bonus che tra l'altro ho inventato io insieme al governo di cui facevo parte e che è durato per 15 anni e ha aiutato milioni di italiani a ristrutturare e a ridurre gli sprechi energetici e a pagare bollette più basse. È stato un successo. Il super bonus cercava di andare più avanti e di aiutare anche le persone che non hanno un reddito, perché quel sistema è un sistema che, ovviamente, il Ministero del Tesoro già fece un sacco di storie per appoggiarmi a quella cosa, figuriamoci. È anche orribile di quanti morti, come facciamo? Ecco qua, purtroppo, quello che... l'Italia purtroppo è nato un popolo di mente corta, dice anche questo, lo dice Renato. Va bene, io ogni tanto leggo ovviamente le cose che mi scrivete, perché mi sembra molto importante e chiedo anche, se avete dei temi che volete suggerire, scrivere, eccetera, sia a me, sia sul gruppo Ecodigia 2050, coordinato da Ansemmo Pellizzi, sia sul sito www.ecodigital.it, per noi, a noi fa piacere avere sostenitori che ragionano, che danno idee, che danno spunti, e soprattutto non solo il lamento, ma anche le proposte in positivo che ci sono in questo Paese. Noi siamo un Paese che possiamo fare belle cose, non possiamo solo lamentarci. Per esempio, una riforma Ecodigital è partita nel silenzio, miracolosamente, ora vediamo se funzionerà, stanno sperimentando finalmente il primo sistema che si chiama IT Alert. Che cos'è? Vi ricordate che vi ho detto che il cambio climatico, la crisi climatica impone, impone dei sistemi di allerta più efficaci? Ve lo ricordate? Sì? Vi ricordate che di fronte all'alluvione drammatica delle Emilia Romagna e là ne abbiamo chiesto aiuto in tutta Europa e siamo stati aiutati. Vi ricordate che rispetto a quell'alluvione si è detto che l'allerta per alcune persone anziane eccetera non era stata sufficiente, non avevano capito che c'era una vera emergenza, che era grave. Vi ho detto che nel 2007 come Ministro dell'Ambiente e io nella Conferenza Nazionale sul Clima avevo chiesto di lavorare per avere nuovi sistemi di allerta, più efficaci, più veloci, che spiegassero ai cittadini qual era il rischio che quella che chiamano bomba d'acqua ti arrivasse addosso e ti trascinava dentro un sottopasso e morivi. Chiaro? Questo ho detto nel 2007, non hanno fatto nulla, nulla in 15 anni. Adesso finalmente una riforma di quella che io chiamo eco digital, perché è ecologica e digitale, perché si occupa del cambiamento climatico e usa l'IT. Allora ieri hanno fatto le prime prove, quali sono le prime eroi? Adesso poi ci sono pure gli insultatori seriali deficienti, che sono dei poveri imbecilli sostanzialmente, che continuano a parlare a vanvera, dicono cazzate, io tra l'altro ho chiesto insieme di bannarli anche dalla pagina, perché i cretini che non hanno argomenti, che sono dei deficienti. Ma dico, ma se quello che dico non lo condividete, perché siete di destra, perché vi piace Salvini, perché vi piace farvi prendere i fondelli da chi vi promette il ponte sullo stretto mentre non avete nemmeno le strade e le autostrade, ci sta. Uno vuole essere un deficiente che gli piace essere messo in giro, ci sta. Ma allora perché venite a guardare quello che dico io? Perché? Siete affascinati da una cosa che non condividete, no? Perché non siete in grado di articolare nulla, perché uno può dire io penso che il ponte sullo stretto è una cosa molto intelligente, allora poi dice perché? Può scrivere, io lo leggo, se scrivete delle cose normali e non delle cose della mente catti, io sono ben contento, ben contento. Se invece siete dei mente catti, andatevene, perché ci stanno tanti siti per mente catti, che avete voglia? Gente che dice che non c'è cambiamento climatico, gente che dice che la terra è piatta, tanti mente catti ci stanno, ignoranti, stupidi, e ci sta. Oh, che ma fa? È la varietà umana, noi cerchiamo di evitare che siamo la maggioranza, ma andatevene, o comunque vi cacciamo, tanto ansemo vi caccia, non c'è problema, se non mi distraggo io lui lo fa, quindi non c'è problema. Allora, per quanto riguarda, torniamo a noi, cosa è stato fatto? Ecco ieri, adesso una mi ha risposto, una di voi, qualcuno mi ha risposto. Allora, ieri è stato fatto l'alert, cos'è l'alert? È un sistema di allarme, si chiama IT-alert, che significa IT? Praticamente parliamo di tecnologie, di tecnologia al servizio, in questo caso, di un'allerta. Qual è l'allerta? Nei telefonini, ieri l'hanno fatto in Campania, nelle Marche e in Friuli Venezia Aggiune. Il telefonino, quando c'è un allarme ciclone, per esempio, o anche terremoto, ma soprattutto gli allarmi meteorologici, che adesso sono in parte prevedibili, per fortuna, e stiamo nel mondo riducendo i rischi di morte perché gli allerta meteorologici sono sempre più precisi, cioè i satelliti che guardano il clima eccetera cercano di prevedere in anticipo se ci può essere un livello di pioggia talmente grosso e forte da poter travolgere e creare un ciclone, come abbiamo visto adesso drammaticamente in Libia, ma anche cose più piccole e localizzate. Cioè, se in una sola città cade di botto, come è stata a Milano, che c'è stata una specie di tornado eccetera, adesso gli sistemi di allarme permetterebbero a tutti i telefonini, aspetta, Antonio dice che gli ingegneri hanno fatto le batterie al sale, mandatemele se ci sono notizie specifiche. Giulia dice che gli è arrivato alcuni giorni fa questo alert, si stanno facendo le prove, le prove del sistema, significa che finalmente, ma io l'avevo chiesto il 2007, meglio tardi che mai, ma sarebbe meglio presto, con meno lutti e meno danni, cosa è successo? Con questo alert i telefonini squillano, cioè se c'è un allarme, anche di una zona limitata, perché voi sapete che le cosiddette bombe d'acqua o i nubi fraggi, non riguardano l'intera regione, riguardano magari un'area abbastanza circoscritta, addirittura una parte di una grande città. Allora è fondamentale che tu nella zona, nelle zone che sono potenzialmente a rischio, mandi un'allerta, così il telefonino fa degli squilli che tu inizi a riconoscere e identificare come una specie di sirena, diciamo così, che tu sai e devi essere educato a prendere le tue contromisure. Allora, se c'è un tipo di allerta che riguarda il problema dell'acqua devi andare ai piani alti, devi evitare di uscire in macchina e ti metti soprattutto in un sottopasso, perché chiaramente un improvviso torrente che finisce dentro un sottopasso muori. Allora ci sono cose che se le conosci hai molte possibilità di evitare la situazione peggiore, cioè quella di perdere la vita. Poi è chiaro che in altre situazioni cerchi anche di ridurre i danni, perché usai in anticipo, cerchi di spostare le cose, cerchi di mettere… voi avete visto tanti film americani, ma voi vedete in quanti film americani quando c'è un ciclone? Sono cicloni più forti di quelli che… però questi iniziano ad essere pesanti i cicloni che ci arrivano. A Milano avete visto sradicati alberi enormi. Allora se in alcune zone tu hai questo allarme, in Stati Uniti per esempio che fanno? Mettono dei legni vicino alle finestre, per evitare che scoppino i vetri, che si rompano le zone. Cioè ci sono delle cautele a cui non eravamo abituati, perché non avevamo quel tempo, il clima è cambiato, e quindi bisogna fare in modo che comprendiamo cos'è il cambiamento. Ecco perché io sono molto arrabbiato con le persone che negano l'evidenza, perché rischiano di far morire le persone. Chi nega l'evidenza, anche inconsciamente, fa una cosa che è quasi criminale. Perché se tu continui a dire che non è vero, non c'è niente, e poi quelli restano dentro casa quando c'è l'allerta, muoiono o possono morire. Allora glielo vogliamo dire la verità o no? O per un fatto ideologico, perché dicono che le Nazioni Unite mentono, tutti mentono, tutti mentono. Ma quando mai? Il cambiamento climatico è reale. Punto. Poi si può discutere come lo affrontiamo, si può discutere come potrebbe peggiorare e non peggiorare, e quali misure facciamo per evitare che peggiori. Questo possiamo discutere, ma è innegabile che c'è. Poi voi mi dite che fate le cose con Conte, ma voi lo sapete, io Giuseppe lo sostengo, credo che stia facendo un buon lavoro, vorrei che su alcune cose facciano ancora di più, per esempio abolire questa legge elettorale deve diventare un obiettivo strategico dei Cinque Stelle. Strategico. Devono dimostrare al Paese che non ne possono più di legge elettorale fatte da Renzi e da Calderoli, che sono leggi che creano dei Parlamenti pieni di trasformisti e creano un meccanismo per cui il cittadino non si riconosce più negli eletti. Questo secondo me deve intestarsela come battaglia il Movimento Cinque Stelle. E vedrete che avrà il sostegno dei cittadini, ma anche dei consiglieri, dei rappresentanti, anche di altri partiti, perché tutti, anche quelli che stanno nei peggiori partiti, questa cosa la vivono come un sopruso in ingiustizia. Poi dice Giulia, si devono cautelare anche le provviste di acqua e vivere? Certo, ma perciò servono gli allerta. In Australia hanno installato una rete per rifornire le auto che usano l'idrogeno, sei minuti per rifornire. Ebbè, questo è il tema dell'idrogeno, è un tema caro Angelo, che io ho lanciato con Germi Riffiche nel 2006 e abbiamo finanziato i primi impianti in Puglia, però poi ovviamente i governi successivi se ne sono un po' fottuti. Adesso l'Unione Europea sta facendo la piattaforma idrogeno e cercherà di rilanciare l'idrogeno. Io mi accontenterei che nel frattempo riuscissimo a avere almeno anche le colonie elettriche, migliori batterie. Adesso ho visto una persona che mi ha detto che c'è questa batteria al sale. Noi dobbiamo investire sulla tecnologia. Perché io parlo di battaglia ecodigitala? Perché io dico che oggi la transizione ecologica e digitale può dare delle innovazioni molto forti. Però che dobbiamo fare? Io intanto adesso direi di darvi una buona serata perché abbiamo detto le cose che dovevamo dire. Ovviamente vi chiedo di aderire alla pagina che cura Anselmo che si chiama Ecodigital verso il 2050 e l'altra Amici di Alfonso Pecoraro Scano. È un modo per darvi notizie in anteprima, avvertirvi delle dirette, fare in modo di essere una community in qualche modo. Poi per ora siamo ai pupazzi, sono d'accordo, vorrei sapere dove i negazionisti. Guardate c'è una specie di internazionale di queste fandonie, delle fake news. Oggi Grillo ha detto una cosa giusta, forse, perché ha detto che la destra dice più fake news della sinistra. Non so se è automaticamente così. Però sui temi del clima e su una serie di temi le destre mondiali sono il regno delle fake news, dicono delle cose addirittura fuori, completamente fuori di testa, che ovviamente sono nate con questa cultura del complotto per dire ma le Nazioni Unite chissà cosa dicono. Le vere multinazionali, le vere lobby sono quelle dei fossili, invece attaccano gli ambientalisti dicendo ma quelle sono cose che fanno gli ambientalisti. Ma chi? Greenpeace, perché dice la verità, cioè che si danno ancora contributi ai combustibili fossili, che è una vergogna, che è una vergogna. Se noi investiamo sulle rinnovabili l'Italia diventa indipendente energeticamente, non dobbiamo più pagare una volta la Russia, poi l'Algeria, poi l'Azerbaijan, poi il Canada, poi gli Stati Uniti per importare energia. Possiamo farci energia da soli, ma secondo voi è o no? Ecco lo dico ai grandi sovranisti, a destra dice che è sovranista, ma quale cosa è più netta come sovranità nazionale dell'indipendenza energetica? I veri sovranisti dovrebbero investire sul sole, il vento, la geotermia, l'idroelettrico o no? Com'è che investono sul gas che viene importato? O peggio, sul riaprire le centrali a carbone, visto che per fortuna, al meglio il ministro attuale dice che le vuole chiudere, ma io non vedo tutto questo entusiasmo del resto del governo. Allora? Allora credo che non sono manco sovranisti, o sono sovranisti solo quando devono parlare contro gli stranieri. Poi invece, quando dobbiamo garantire la sovranità nazionale sui grandi temi, tra cui l'energia, i sovranisti scompaiono. chiediamocelo. Va bene, io vi auguro una buona serata e soprattutto di essere sempre tenaci e sapere che le battaglie le dobbiamo vincere. Ciao!